121 signori 121 avete sbagliato a stanza come? il 121? ma come si spiega questa cosa? errare umano un mest sed perseverare in errore est diabolico la dice deve essere un antico romano parla sempre in latino non trovate singolare il mio errore? io veramente lo trovo plurale vi siete sbagliata tre volte ma vi siete proprio sbagliata oh sì peccato perché? perché se non aveste sbagliato mi sarei permesso di invitarvi a cena ma io non mi sono sbagliata mi dispiace ma perché? perché qui è apparecchiato per uno solo il signore desidera? il signore vuole essere servito su svilto ostreche 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 fresca no apparecchie per la signora ostreche signore ostreche signorina ostreche questa 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 e siete sempre così solo? mai è la prima volta oh allora vi disturbo forse per questa sera volevate isolarvi ah capisco donne sempre donne e che donne